Da oggi sono 40 milioni gli italiani in zona bianca, quella con minori restrizioni. In totale 13 le regioni nella fascia più bassa di rischio covid, con regole meno rigide e niente coprifuoco. Zona bianca quindi per circa due terzi degli italiani, per la Sicilia però bisognerà attendere ancora sette giorni. Restrizioni al minimo, ma bisognerà continuare ad indossare le mascherine, rispettare le distanze, lavare spesso le mani. Via libera, matrimoni e feste, ma con il Green Pass al ristorante non più di sei al chiuso. Il trend dei contagi da nuovo coronavirus continua a diminuire. Spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi sette giorni, dice il ministro Speranza. Obiettivo zero morti nella consapevolezza che l'arma decisiva contro la pandemia resta la campagna vaccinale. Nelle zone gialle resta il coprifuoco a mezzanotte fino al 21 giugno. Quindi anche per la Sicilia, in attesa di passare bianca e godere di regole meno vincolanti per i ristoranti, nessun limite alle presenze al tavolo all'aperto, sei commensari al tavolo, sei locale al chiuso. I locali pubblici potranno osservare orali liberi. Nella zona gialla c'è ancora il coprifuoco dalle 24 alle 5. Secondo i dati attuali, il 21 giugno, giorno in cui si eliminerà definitivamente il coprifuoco, dovrebbero passare in zona bianca, oltre alla Sicilia, anche Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e la provincia autonoma di Bolzano.